Tra l'abolizione del saldo IMU sulla prima casa, il rinvio dell'aumento dell'IVA, il finanziamento di cassa in deroga e le emissioni all'estero, vanno trovati subito 4 miliardi congiunturali di coperture. Vanno aggiunti 4-5 miliardi per interventi strutturali sul 2014, come la nuova service tax legata agli immobili, che dovrebbe costare 2 miliardi, la deducibilità dell'IMU sui capannoni industriali, 1,5 miliardi, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e l'ulteriore revisione del patto di stabilità con i comuni. Poi ci sono 2 miliardi per scongiurare l'aumento del ticket sanitario e 4 miliardi se si volesse cancellare per sempre l'aumento dell'IVA al 22%. Insomma, entro la legge di stabilità di metà ottobre vanno trovate coperture per una stima di circa 14 miliardi per rispettare il vincolo del 3% di deficit PIL. Sembra che in ballo ci siano sicuramente nuovi tagli selettivi, perché l'obiettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze è quello di dare un taglio strutturale alla spesa pubblica. Il primo punto da cui partire sarà dunque l'adozione di costi e fabbisogni standard da imporre soprattutto a regioni e comuni sull'acquisto di beni e servizi intermedi. Dito puntato quindi contro polizia locale, rifiuti, asili e istruzioni. Ma la ragioneria sembra stia lavorando anche su sanità e trasporto locale.